ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi cercheremo di battere il record di kendall che ha ben fatto 17 e il metti in ferro in un minuto ora io devo batterlo però devo mettere il timer di un minuto ce l'ho pronto qua come vedete e ora il mio via parto tanto tengo qua il mio didino però appena apro la cesta 3 2 1 ok lentissimissimo ecco qua, ok un altro uno otto ecco qua ecco qua un altro ok ecco qua ok fatto un altro ok vedo no raga un attimo un attimo un attimo la pubblica prendiamo è finito vediamo quanti eletti sono riusciti a fare ben uno due tre quattro cinque e sei non ho non ho battuto il record ci rifaremo un attimo 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 un attimo